Come state in Clima Champions, ben ritrovati a tutti, vi ricordo come sempre di iscrivervi sul logo AL, lasciate un bel like, commentate numerosi. Allora, c'è una notizia importante che riguarda Rafa Leao, un aggiornamento. La vicenda è tormentata, piena di insidie, di difficoltà, di complicazioni, come ha detto anche Massara. Ebbene, su Leao da registrare una novità che arriva dalla stampa portoghese, da Ogiogo, secondo cui lo Sporting non si accontenterebbe più di 20 milioni di incasso rispetto alla multa tra Leao e il Lille per il trasferimento con lista gratuita, anche se il giocatore era sotto contratto qualche anno fa. Ma vorrebbe 45 milioni, che è il prezzo della clausola che ai tempi Leao aveva nel proprio contratto, clausola recessoria. Secondo colleghi, lo Sporting chiederà alla FIFA di condannare Lille a questo pagamento, quindi Lille e non il giocatore, però è chiaro che in una vicenda già molto complicata, se c'è questo ulteriore passaggio, c'è un ricorso, c'è la sentenza, la possibilità di un altro ricorso, i tempi si allungano e questo evidentemente non favorirebbe il Milan. Un colpo di scena, l'ennesimo colpo di scena, del quale il Milan avrebbe fatto volentieri a meno. Ora vediamo se poi ci saranno delle conseguenze nella trattativa, oppure no, il Milan che vuole chiudere in fretta, magari, nelle speranze, questo doppio turno di Champions League. Se ci pensate, mai visto una situazione del genere? Se ne va via, poi c'è la multa, poi c'è la doppia procura, prima con uno, poi con l'altro, poi con l'altro ancora. Ricorsi, contro ricorsi, una situazione caotica, poco chiara, alimentato questo caos oggi, da questo enesimo colpo di scena. Ditemi che cosa ne pensate, mi raccomando, iscrivetevi qui, sul logo L, lasciate un bel like, commentate numerosi con il vostro punto di vista e scatenatevi, se vi va, con un pronostico per la partita di stasera. Milan-Napoli, come finisce? Io non mi esprimo. Un abbraccio a tutti, ci vediamo presto, ancora qui su il nostro canale YouTube, siete sempre più numerosi, grazie.